Fin dal suo lancio fu chiaro che Cactus avrebbe fatto parlare di sé e a lungo grazie al suo spirito libero e a modo suo al minimalismo che la contraddistingue. Oggi è in fase di piena maturità e sta raccogliendo i giusti frutti appunto sul mercato e ci sembra doveroso dunque dedicare a lei il prossimo contributo e quindi tornare a parlare proprio di lei, Citroen C4 Cactus. L'esuberanza e l'originalità di Citroen C4 Cactus, il crossover caratterizzato dagli ormai celebri air bump laterali, incontrano lo stile di CS Piumini, il primo marchio in Italia a produrre piumini sportivi utilizzando tra gli altri materiali anche il Goretex. Dalla partnership tra CS e Citroen Italia è quindi nata una versione speciale in edizione limitata di Citroen C4 Cactus, realizzata in 500 esemplari e dotata di un solo e particolarmente ricco allestimento, teso a evidenziare il connubio tra l'aspetto decisamente non convenzionale del modello francese e la dinamicità e la vivacità dell'abbigliamento in pura chiave sportiva di CS. Citroen C4 Cactus CS Piumini, una serie speciale, la prima serie speciale del tutto italiana della DC4 Cactus con due elementi principali, lo stile unconventional del marchio CS applicato a una vettura che è l'unconventional crossover di casa Citroen, quindi due valori molto interessanti che si uniscono per questa nuova serie speciale che contribuisce ad avere uno stile unico e un vantaggio per il cliente grazie a un allestimento veramente top di gamma fino a 1700 euro tra equipaggiamenti di serie come il tetto panoramico ad alta protezione termica e il park assist, quindi il sistema di parcheggio automatico e ha un voucher di 350 euro da spendere nello store online di CS Piumini. La gamma della Citroen C4 Cactus CS Piumini è disponibile con 5 motorizzazioni, 3 propulsori a benzina, PureTech 82, PureTech 82 ETG e PureTech 110. I due motori diesel sono invece il BlueHDi 100 e il BlueHDi 100 ETG. Il listino varia da 18.800 euro a 22.400 150 euro.